L'applet virtuale di Zanichelli per il generatore di tensione, analogia idraulica. Il dislivello genera il flusso di liquido attraverso la conduttura, ma poi quando scorre questa corrente il dislivello si abbassa, si diminuisce e si azzera. Per mantenere il dislivello è necessaria la pompa idraulica che riporta sempre l'acqua dal livello basso al livello alto. La pompa mantiene il dislivello tra i due vasi, perciò nel tubo può continuare a fluire la corrente. Per un circuito elettrico la situazione simile serve un dispositivo capace di mantenere il dislivello, in questo caso la differenza di potenziale. È il generatore di tensione continua, capace di mantenere sui cabbio una differenza di potenziale costante, indipendentemente dalla corrente che la attraversa.